Il segreto, l'arrivo di Lucia, conquisterà tutti, anticipazioni spagnole, dalle anticipazioni delle puntate spagnole del segreto scopriamo che arriva Lucia che sta conquistando tutti, in particolar modo Beatrice che sembra gradire molto la sua compagnia ma non sarà solo lei a restare folgorata dalla nuova arrivata perché anche Nicholas, dopo la prematura scomparsa di Mariana, potrebbe ritrovare l'amore sarà proprio con la giovane appena giunta in paese, nel frattempo Matthias fa un'incredibile rivelazione a suo padre che resta talmente sconvolto dalla notizia data dal figlio da arrivare quasi allo svenimento, presto diventerà padre, prima parte, Lucia conquista tutti, nelle puntate della telenovela il segreto attualmente trasmesse in Spagna vediamo entrare nel casto un nuovo personaggio, quello di Lucia, che stringerà fin da subito un ottimo rapporto con Beatrice, la quale sembra gradire davvero molto restare in sua compagnia, infatti le due ragazze avranno fin da subito un'ottima sintonia, Lucia è una ragazza molto attraente, che nel piccolo paese della comarca spagnola, non sta passando inosservata, dolce e spigliata sta conquistando davvero tutti, dimostrandosi sempre gentile e disponibile, ma a notarla sarà anche qualcun altro che da qualche tempo aveva dedicato la sua vita alla figlia e al lavoro, ovviamente ci stiamo riferendo a Nicholas, marito di Mariana Castaneda ormai vedovo, seconda parte, Nicholas si innamora, a notare Lucia è infatti anche il fotografo che, nonostante non abbia ancora dimenticato sua moglie Mariana, sembra provare un grande interesse per la nuova abitante di Puente e Viejo, ma anche la ragazza pare fin da subito notare il talentuoso fotografo, infatti sarà evidente dalle loro conversazioni, l'enorme sintonia che ci sarà tra di loro, forse per Nicholas è giunto il momento di voltare pagina e di rifarsi una vita accanto ad un'altra donna, anche se il ricordo di Mariana sarà sempre dentro il cuor del giovane vedovo, questa amicizia quindi potrebbe celare una nuova e grande storia d'amore, intanto c'è chi d'amore vive solamente le pene dell'inferno, parliamo di Matthias, che è le prese con una comunicazione importante da fare ai suoi genitori, ultima parte, Matthias diventa genitore, il giovane è adottato da Alfonso ed Emilie riferirà al padre una cosa incredibile e inaspettata, infatti il giovane è ancora sotto shock, rivela ad Alfonso che presto la famiglia si allargerà, perché entro pochi mesi Marcella darà alla luce un figlio suo, la notizia lascia senza parole il castaneda che per poco non sviene a terra, Matthias sarà molto preoccupato e chiederà consiglio a suo padre Alfonso su come essere un buon padre, il ragazzo non nasconde al genitore di avere molte paure e molti dubbi su questo nuovo ruolo nella sua vita, ma Alfonso consiglierà al figlio di restare calmo e di affrontare una per volta tutte le difficoltà che verranno, le prossime anticipazioni della telenovela Il Segreto ci mostreranno quello che sta accadendo a Reimundo nelle puntate spagnole.